Ciao a tutti i fan e gli amici sia del canale youtube che della pagina facebook da Stefano Maggi, lo sciamano dell'ortoddio e volevo parlare di questi estremisti ambientalisti che stanno facendo i blocchi del traffico sia a Roma sia in altre città d'Italia e del mondo e buttano i cibi sui quadri come sapete io sono stato estremista in tante cose e ancora adesso purtroppo credo di essere estremista in molte cose tra cui l'ambientalismo ma io non andrò mai a fare quei blocchi di traffico perché li reputo, come anche la maggior parte della gente si rende conto inutili e addirittura dannosi perché è vero che sì, dai tanto risalta la notizia finisci in tv, finisci su internet, sui social ma ci sono mille altri modi per finirci ma bloccare il traffico in quel modo è un grosso rischio sia per gli stessi attivisti che lo fanno sia per tutte le persone che vengono bloccate che potrebbero avere un'emergenza che poi non ha alcun senso non ha alcun senso il fatto che non è che c'è più tanto da informare alla popolazione che ci sono i cambiamenti climatici che c'è il riscaldamento globale questo l'hanno capito quasi tutti magari molti se ne fregano ma l'hanno capito quasi tutti il problema è che la soluzione è non facile i politici spesso se ne fregano perché preferiscono dar retta a quello che il popolo sente di pancia e le cose a breve termine non pensano a queste cose molto più importanti quindi dovremo convincere la popolazione a spingere, a convincere i politici o a votare politici migliori che trattino di questi ambienti e facciano politiche serie su questi ambienti ma soprattutto la ricerca nel campo universitario ci sono tantissimi scienziati che studiano nel campo ma purtroppo non abbiamo tantissime tecnologie che ci aiutano a poter fare una transizione così veloce e non inquinante inquinante al minimo senza che ci sia anche un grosso danno economico è un problema servono nuove tecnologie quindi servono persone che fanno la ricerca una cosa bellissima che è successa durante questi blocchi è stato che un ricercatore proprio nell'ambito dell'ambiente è sceso e ha detto ai ragazzi ma invece di stare qua a bloccare il traffico venite con me ci serve gente venite a studiare voi ragazzi che state in questi movimenti estremisti ma state studiando a me mi pare che non sapete un cazzo scusate che ve lo dico ho guardato un paio che sono stati intervistati da Ivan Griego avete solo tanta ideologia come avevo io a 20 anni a 19 anni ma non sapete un cazzo di ideologia ma andateci all'università studiate qualcosa perché una volta che dite c'è il problema ecologico ok e come lo risolvemo voi lo sapete come risolve me sa de no me sa de no quindi invece di andare in giro a fa baccano se ancora non avete capito perché non cominciate a studiare eh io non è che vado in giro a fa baccano l'avete visto che sono 10 anni che faccio i sforzi che cerco di risparmiare pure non avendoci una lira per crearmi una vita sempre meno impattante ma voi che andate allà a romper cazzo la gente ma fate me capis ma siete tutti vegani ma siete andati lì alle manifestazioni tutti con la bicicletta elettrica vi vestite tutti di canapa vero pure striscioni e bombolette spray che usate sono fatte tutte di canapa sono tutte non inquinanti no ma soprattutto andà a bloccare il traffico perché le auto inquinano già che un'auto inquina pochissimo rispetto a tante altre cose tutto l'insieme delle auto quindi dovresti bloccare tutte le strade del mondo contemporaneamente ma se tu fermi le auto non è che la gente spegne il motore la gente sta col motore acceso al minimo anzi oggi ho visto sull'infirmato lì a Roma a Viale Marconi per far paura a una manifestante c'era uno che gli sgasava in faccia i motori stanno accesi lo stesso consumano lo stesso e quella è proprio benzina bruciata CO2 emessa nell'aria inutile perché la gente manco ci si è spostata è stata lì a guardare a te quel coglione che sei quindi è proprio una cazzata è proprio una cazzata e però io non so dalla parte degli automobilisti perché ho visto automobilisti incazzati violenti non puoi prendere i manifestanti trascinarli rischiare di metterli sotto quella macchina minacciarli minacciarli di menaie e cose del genere quello che devi fare è con tranquillità chiamare la polizia perché stanno a fare una cosa illegale un blocco del traffico non avvertito non autorizzato ma una cosa del genere è illegale e la polizia con calma arriva e se li porta via infatti in questo caso la polizia è l'unica che mi sembra che abbia fatto il suo lavoro e non ha fatto violenza ai manifestanti ma l'ha portati via poi credo sia giusto se gli facciano qualcosa perché non possono fare queste cose rischiose per loro e per gli altri non ci hanno senso già buttare del cibo addosso a delle opere d'arte che so protette non stai a far danno non c'è il rischio di vita di nessuna persona già quello è un altro discorso già fa una cosa del genere non vi dico che sbagliano magari fanno bene per farsi vedere però ma quant'è Greta Thunberg non è uscita ieri ma io quant'è che cantavo le canzoni e dicevo le cose l'hiamo capito ci sono attivisti ma fatela finita di fare attivisti fate le cose pratiche ma non vi dico cominciate a farvele a casa con i pannelli solari e tutto quanto ma almeno siete informati avete studiato io ho visto che lì da Ivan Griego quando parlavano con quell'esperto di energia nucleare erano delle base contrari all'energia nucleare non sapendo un cazzo e non sapevano un cazzo di nient'altro studiate bisogna informarsi e bisogna che i giovani che stanno all'università come spero di fare io con tutti i miei limiti purtroppo ci abbiano voglia di studiare e fare ricerca proprio su questo e questo dovremmo chiedere ecco anche ai politici di finanziare la ricerca all'università su questi temi di agevolare tutta la transizione ecologica e questo è il modo con cui si fanno le battaglie non bloccando il traffico e mettendo poveri contro altri poveri proletari contro altri proletari normali cittadini contro altri normali cittadini che cazzo che battaglia sociale è e niente questo era quello che vi volevo dire vi saluto se no il video è troppo grosso lungo un abbraccio a presto ciao